Ciao da Avsim, il Napoli ha acquistato Gabriel Veiga, Gabriel Veiga dal Celta Vigo, o meglio in questo momento all'inizio di questa giornata di venerdì 18 agosto abbiamo la notizia diffusa già da diversi giornalisti da diverse fonti che c'è l'accordo con il Celta Vigo. 30 milioni di base fissa più 6 milioni di bonus, 36 milioni per un centrocampista offensivo 21enne, diciamo sotto 40 milioni era difficile, era difficile sperare in una cifra simile, non è una cifra bassissima però stiamo parlando di un investimento davvero interessante. Manca a quanto pare l'accordo per quanto riguarda i dettagli con il calciatore, quindi visto il caso Samargic con l'Inter magari non lo diamo ancora per fatto al 100% perché non lo è, però si sta veramente parlando di fumata bianca, si parla di accordo trovato e diciamo che forse la parte più difficile era proprio l'accordo con il Celta Vigo e non tanto con il calciatore. Calciatore che infatti non ha mai giocato in Champions League, si è affacciato nella Liga con il Celta da poco, infatti andando a vedere le presenze parliamo di 50 presenze nella Liga per lui che ha sempre giocato nel Celta Vigo e cresciuto proprio nel club e ha una valutazione adesso di 30 milioni. Insomma questo è indicativo perché 27 maggio 2002, quindi 21 anni compiuti da poco, concluderà forse con lo scudetto questa prossima stagione compiendo appunto i suoi 22 anni. Quindi un investimento pazzesco, ne avevo già parlato, Gabri Vega è veramente forte, è veramente veramente forte per quello che ha saputo far vedere nella Liga nel Celta Vigo. Quindi è chiaro che poi lavorandoci, e ci dovrà lavorare Rudy Garcia perché il lavoro dell'allenatore è quello di lavorare sui giocatori sotto tutti i punti di vista, può ancora migliorare. Ma che giocatore è? Che caratteristiche ha? Va ad arricchire un centrocampo che era già molto convincente e che sostanzialmente rispetto all'anno scorso ha perso un dombele, voglio dire, e forse andrà via Demme. Ma infatti si parlava di partenza di Zielinski come necessaria per far arrivare Gabri Vega. Secondo alcune fonti invece non sono mai state alternative le due cose, non è mai stato necessario vendere Zielinski ed infatti Zielinski potrebbe restare. C'è chi l'ha dato per già partito, in realtà c'è totale incertezza, per qualcuno invece si propende verso il rinnovo di contratto. Ma guardate un po' il modus operandi del Napoli, e parliamo infatti anche di questo, guardate quante cose non sapevamo minimamente. Cajuste è arrivato totalmente all'improvviso, un pochino anche Nathan, Rudy Garcia non lo aveva praticamente nominato nessuno ed è lui l'allenatore che è stato scelto. E già aggiungo anche le tempistiche su Gabri Vega, perché De Laurentiis ancora una volta ha mandato in spiaggia tutti quanti i giornali. Non tanto perché non si sapeva, perché ieri sera si sapeva che questa notte sarebbe stata importante probabilmente per questa trattativa. Ma perché adesso che la gente sta andando nelle edicole ad acquistare i quotidiani sportivi, chi ancora li acquista cartacei nelle edicole, o chi comunque sta guardando, sta andando sui siti. Ecco, per quanto riguarda però la parte cartacea già andata in stampa, Gabri Vega non c'è. Ti svegli la mattina ed è fatta per Gabri Vega al Napoli e quindi tutti i quotidiani sportivi sono già vecchi. De Laurentiis da questo punto di vista è fantastico. Quindi il modus operandi qual è? Quello di operare bene, tendenzialmente in maniera silenziosa, senza quindi degli spoiler, delle anticipazioni, senza diciamo clamore, senza alcun clamore, sotto traccia per poi andare a fare il colpaccio però. Stiamo parlando di un centrocampista veramente forte, di un giocatore prevalentemente piede destro che gioca prevalentemente nella zona di destra. Stiamo parlando di una, è difficile anche da definire, potremmo dire mezzala, ma è sicuramente un centrocampista offensivo che sa sostenere l'attacco anche da trequartista. Sa allargarsi a dare l'ampiezza facendo l'ala, ma soprattutto sa inserirsi molto bene nel mezzo spazio. Ha ottimi movimenti senza palla, ottimi inserimenti anche dentro l'area di rigore. Un gioco molto veloce, tecnico, pulito, ma di grande qualità, quindi è bravo anche nel dribbling, nello scambio veloce, nelle triangolazioni, nella rifinitura, letteralmente nella rifinitura. È bravo anche a segnare 11 gol in 50 presenze nella Liga, quindi è anche molto più di un centrocampista offensivo. Un bellissimo giocatore, lo avevamo detto, il Napoli già ha fatto un colpaccio con Cacuste. Cacuste è riuscito, almeno sulla carta, a sostituire per caratteristiche Kim Minjah e Kim Minjah con Nathan. Ieri sono stati presentati proprio Nathan e Cacuste, poi Nathan è da vedere, però è sicuramente un difensore che ha le caratteristiche per andarsi ad incasellare lì dove ha lasciato spazio libero il coreano andandosene al Bayern Monaco. Se poi prende anche Gabri Veiga hanno fatto jackpot, e hanno fatto jackpot. Perché in questo momento il centrocampo del Napoli vede sicuramente Lobotka come unico mediano di primissima impostazione per caratteristiche, per quanto anche Cacuste lo potrebbe fare. Però immaginiamo magari Anghissà e Cacuste alternativi come Mezzala sinistra, poi alla fine è variabile, bisogna vedere come in realtà vorrà lavorare Rudi Garcia, ma possiamo immaginare questo, ovviamente con caratteristiche diverse. E dall'altra parte ci sono Zielinski e Gabri Veiga. Ma niente male. E poi c'è anche Elmas che è un jolly di centrocampo che però sarebbe meglio impiegare come vice Kvarascheglia. Mentre poi dall'altra parte hai Politano Lozano, davanti hai Osimen Simeone e c'è pure Raspadori. E c'è pure Raspadori. Cioè il Napoli è copertissimo in tutti i ruoli. Ha confermato chi doveva confermare, quindi per esempio penso appunto a Mario Rui, per il momento lo stesso Zielinski, Osimen, soprattutto Osimen. Kvarascheglia non è mai stato a rischio di andarsene, molto di più Osimen. E poi è andato anche a rinforzarsi. Perché Cacuste occupa lo spazio di Ndombele, cioè è veramente un upgrade. Gabri Veiga in aggiunta a Zielinski. Cioè è veramente pazzesco. Allora la domanda è come opera il Napoli e perché, cosa che ho già detto, il Napoli senza Giuntoli sembra continuare a fare il mercato con Giuntoli, da Giuntoli, stile Giuntoli. Mentre la Juventus con Giuntoli sembra continuare a fare il mercato di Cherubini, di Manna, se vogliamo addirittura di Paratici. Allora evidentemente non era Giuntoli. Ormai siamo all'evidenza più totale perché su Nathan potevi dire vabbè, magari era frutto ancora del lavoro precedente di Giuntoli e l'aveva individuato lui. Poi però aggiungi anche Cacuste così all'improvviso. Poi aggiungi Gabri Veiga. Certo può darsi che ci sia stata una traccia appunto anteriore, una traccia che viene da lontano, magari negli scorsi mesi, e che quindi questi siano giocatori che sono stati indicati da Giuntoli. Però poi la trattativa non l'ha fatta lui. La trattativa, l'accordo con la controparte non l'ha trovato lui. Allora evidentemente c'è una struttura di staff, di management, dirigenziale, di scouting, che funziona benissimo al Napoli, che lavora benissimo. E rispetto alla quale struttura Giuntoli non era fondamentale, non era imprescindibile. Senza di lui vanno avanti lo stesso. Tra l'altro da considerare anche la facilità, come vedete, di fare questo tipo di mercato. Io sinceramente lo vado predicando quasi da un decennio ormai. La mia anzianità su YouTube mi porta purtroppo ad essere ormai una campana che risuona sempre gli stessi rintocchi, perché le cose non cambiano e dovrebbero cambiare in quella direzione. Cioè se tu vai a fare un buono scouting prendendo giocatori under 23, diciamo così, cioè che non hanno ancora compiuto i 23 anni, ma è facile che tieni gli stipendi bassi. È normale che tieni gli stipendi bassi. È normale. L'unica eccezione finora del Napoli è rappresentata da Ozyman. Mi è stata anche contestata questa cosa da qualche tifoso del Napoli. Non esagerare, non criticare che De Laurentiis, come ho detto, sia un po' piegato, in qualche modo rinunciando, scendendo a compromessi rispetto ai suoi paletti rigidi sugli stipendi, sul monte in gaggi per non farlo alzare, proprio con il rinnovo di Ozyman. Però diciamo che era anche inevitabile, visto l'interessamento di tanti club, vista l'importanza del calciatore. Mi si è detto che in realtà De Laurentiis sa quello che fa, ma non ho dubbi che sa quello che fa. Infatti, perché è facile tenere gli stipendi bassi? Perché Gavri Veiga, per quanto abbia probabilmente ricevuto l'interessamento anche di altri club, ma però va al Napoli, ma il Napoli oggi è un top club. Infatti mi faceva ridere, leggevo l'altro giorno, non mi ricordo quale giocatore, accostato alla Juventus, pare abbia detto non preferisce andare all'Atalanta perché vuole una big. Ma l'Atalanta è una big. Il Napoli è una big. Il Napoli è il club attualmente per continuità più presente nelle competizioni UEFA, ininterrottamente da oltre un decennio. Ininterrottamente da oltre un decennio. Ha vinto lo Scudetto e ha fatto una grande Champions. E Gavri Veiga non ha mai giocato in Champions. Vai a Napoli con lo Stadio Maradona, con quello che tra l'altro hai visto che sono riusciti a tirar fuori da Osimen, da Quaraskelia, da altri, da Lobotka. Chiaro, c'era Spalletti. C'era anche Giuntoli, c'era Spalletti. Adesso bisognerà vedere Rudy Garcia. Però ci sono tutte le premesse per dire ma certo che vado al Napoli. Ma ovvio che vado a giocare al Napoli. E quindi non hai quelle pretese di stipendio. Non solo, ma magari nella bravura della dirigenza del Napoli, ripeto, adesso non so chi precisamente, c'è anche la capacità di individuare quei giocatori che non sono delle teste calde, che non hanno dei procuratori che sono ingestibili. Vedi il caso Samargic, dove bisognerebbe capire veramente che cosa è successo. Bisognerebbe capire veramente che cosa è successo, perché è una situazione veramente strana, ma ci sono questi casi qui. Oppure ci sono quelli in cui il giocatore non è una testa calda, il procuratore non è ingestibile, ma semplicemente ha delle pretese assurde. Ora io non so quanto sarà pagato di commissione al procuratore di Gabri Veiga, quanto prenderà dei stipendi. Adesso mi sfugge questa cifra, non è stata per il momento pare diffusa. Anzi, come dicevo, manca in effetti ancora l'accordo definitivo, mancano i dettagli da questo punto di vista, però non è che stiamo parlando di andare a dare 6 milioni, 7 milioni. Al di là poi del discorso decreto crescita, che speriamo che aboliscano o disattivino il prima possibile, quantomeno per il calcio. Poi per il resto non mi interessa. Però diciamo va bene, uno vuole sfruttare il decreto crescita, ma non per questo il Napoli fa come la Juve, per esempio, che l'Inter stava prendendo Bremer a 3 milioni netti e la Juve è andata a gliene da 5. 5. Senza decreto crescita. 5. Mi sembra senza, perché la presenza in Serie A di Bremer è abbastanza anteriore, passando attraverso il Torino. Ma al di là del decreto crescita, la base è fissa, da 3 passa a 5 da parte della Juventus per convincere il giocatore ad andare. Ecco, il punto è questo, quando tu hai valore, quando tu hai valore, chiami valore, richiami valore. Perché se tu sei il Napoli, la tua proposta è già convincente. Non c'è bisogno di dare soldi per convincere. E i giocatori neanche pretendono, perché non si vogliono lasciare sfuggire l'occasione, e capiscono che se c'è una certa politica, funziona bene per tutti. Io dico, tenere gli stipendi bassi funziona anche in una logica di collettivo, cioè di spogliatoio, di squadra, di sinergie, perché tutti sanno di essere parti non indispensabili, non fondamentali, ma importanti. Nel fare appunto collettivo, nel fare squadra, non ci sono delle prime donne, non ci sono dei VIP all'interno di uno spogliatoio, e di conseguenza si va poi a frammentare quello che dovrebbe essere invece lo spirito di squadra. Ecco, ci sono tanti aspetti da considerare, tanti valori, che dovrebbero esserci sempre nel calcio in quanto valori dello sport. Quindi mi spingo anche a dire questo, non è soltanto una valutazione tecnica, questo clamoroso acquisto, ripeto, non ancora definitivo al 100%, ma siamo a oltre il 99%, di Gabri Veiga da parte del Napoli. Un grande colpo, un grande acquisto sotto molti punti di vista. Ora, starà a Rudi Garcia lavorarci, non disperdere il lavoro di Spalletti, anzi, continuare. Perché attenzione, qui non bisogna fermarsi. Cioè, Spalletti in due anni ha fatto qualcosa di straordinario, e non solo perché hanno vinto lo Scudetto, ma per quello che hanno messo in campo, a prescindere dallo Scudetto. Ma non è detto che Rudi Garcia debba solo mantenere il Napoli allo stesso livello, che già sarebbe grande cosa, perché significherebbe vincere un altro Scudetto, tendenzialmente. Ma Rudi Garcia può fare anche meglio, io non ho questa fiducia, perché secondo me Spalletti è molto più bravo. Però, vediamo come funzionerà a Rudi Garcia al Napoli. Ci sono anche dei matrimoni felici che funzionano, perché appunto si creano le sinergie lì dove è imprevedibile, lì dove sarebbe difficile da pronosticare. Magari Rudi Garcia funziona benissimo al Napoli. Vediamo. intanto io ho già visto qualche partita, vi dicevo proprio nel precedente video sul Napoli, su questo canale, in cui anticipavo la possibilità, perché già se ne parlavo naturalmente, di prendere Gabri Vega con le mie considerazioni, che c'è qualche difettuccio rispetto all'anno scorso, qualche tendenziale peggioramento, non necessariamente, rispetto al gioco dell'anno scorso. Però vediamo. Vediamo anche con l'inserimento di Gabri Vega. Ora sarà a Rudi Garcia non rovinare questo mercato fantastico del Napoli, oltre che il lavoro tecnico-tattico sviluppato in precedenza da Spalletti e dal suo staff. Complimenti al Napoli anche senza aggiuntoli. Complimenti al Napoli anche senza aggiuntoli. Wow, seguiremo il Napoli. Seguiremo il Napoli, vedremo quanto bene giocherà, quanto ci entusiasmerà e domani si parte appunto contro il Frosinone e quindi continuate a seguire. mi perché vi parlerò delle conferenze stampa ma soprattutto delle partite del Napoli. Conferenze stampa di Rudi Garcia, delle partite. Cercherò di seguire più squadre possibili, cercherò di aggregare magari anche i contenuti. Ci saranno anche degli appuntamenti in diretta per fare dibattito per cui grazie intanto per la vostra attenzione. Buon dibattito già adesso nei commenti e se volete anche sul mio server Discord. Link in descrizione ci sono tante chat anche quella riservata, anche quella dedicata al Napoli per parlare di calcio. Intanto mettete like se questo video vi è piaciuto, condividetelo e continuate a seguirmi iscrivendovi al canale e attivando le notifiche. Potete anche abbonarvi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese per tantissimi vantaggi e seguitemi pure sul mio secondo canale Absim Out, primo link in descrizione, per video brevi sul calcio. Ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi, sempre Allegri Out! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!